I migliori costruttori di piste! Preparati, Elliot. Stiamo per andare alla miglior festa di compleanno di sempre. Vuoi aprire gli occhi? So io cosa ci serve. Wow! Ok, Elliot. Continua ad andare. E se mi schianto? Adesso apro gli occhi. No! Non preoccuparti, festeggiato. Ci pensiamo noi a guidarti. Va bene, squadra. Mi fido di voi. Ma solo perché sono troppo emozionato per la mia festa a sorpresa. Oh no! La pista è piena di slime! Non c'è modo di passare! Ho perso la mia scala! Qualcuno l'ha vista! Oh no! Elliot, fermati! Non preoccuparti. Ti porteremo alla tua festa. Ti copriamo noi. Sì! Di slime! No, costruendo una mega pista. Nessun limite, nessuna regola. Nessun vincolo. Nessun terreno! Se dello slime ti vuoi liberare, questo è quello che devi fare. Il mio kit per il lancio verticale è pronto per la partenza. Woohoo! Sì! Non mi sento molto bene. Allora proviamo con... La mia scarica di velocità! Andiamo! Woohoo! Non far raffreddare i motori! Beh, io ci ho provato. Non ci sono riuscita nemmeno con la mia spinta. Vi state tutti concentrando sullo slime quando dovreste pensare a fare un triplo loop. Adesso vi fa vedere il festeggiato. Woohoo! Ho la sensazione che non raggiungeremo mai la mia festa. Questa sostanza è una via di mezzo tra solido e liquido. Forse ho capito. Se premiamo davvero forte sull'acceleratore, riusciremo a sfuggire a questa sostanza. Questa pista è fantastica! Fai un tentativo, Elliot! Woohoo! Sta funzionando! Neanche una goccia di slime! Wow! State attenti! Sorpresa! L'avevo detto che ti coprivamo. Sì, di torta! Che dolce vittoria!